Grazie Presidenti, cari colleghi, vorrei innanzitutto ringraziarvi dei preziosi suggerimenti che ho ricevuto in occasione dei numerosi incontri che sono stati organizzati e che hanno contribuito certamente ad arricchire il parere che oggi vi presento, che è relativa appunto al miglioramento della capacità amministrativa degli enti locali e regionali per rafforzare gli investimenti e le riforme strutturali nel periodo 2021-2027. Ho lavorato con grande soddisfazione a questo parere poiché da membro del Comitato delle Regioni ma ancora prima da Assessore alla Politica Comunitaria della mia Regione e la Regione Marche e sono convinta che la capacità amministrativa rappresenti un fattore chiave nell'implementazione di successo degli investimenti e delle riforme strutturali delle politiche e credo anche che sia comunque una capacità molto complessa per una pubblica amministrazione. Non è un caso però che l'indagine annuale sulla crescita del 2019 che ha aperto lo scorso semestre europeo sottolinea che la qualità istituzionale include elementi connessi all'efficacia delle pubbliche amministrazioni, al grado di digitalizzazione dei servizi pubblici, alla qualità dell'ambiente normativo, alla lotta contro la corruzione e che gli Stati membri dovrebbero focalizzarsi di più anche sulla qualità della governance. Ecco, se consideriamo poi che secondo gli studi Ocse i governi subnazionali sono responsabili per circa due terzi degli investimenti pubblici, beh a questo punto è semplice capire quanto sia importante implementare la capacità amministrativa nei prossimi anni. Questo è un parere appunto di iniziativa del Comitato delle Regioni che si pone l'obiettivo di sottolineare l'importanza delle città e delle regioni nell'implementazione delle politiche europee. In particolar modo questo parere mira anche ad evidenziare che le regioni, che le città non fanno sempre o comunque complessivamente un uso completo delle misure finanziarie che vengono finanziate dall'Unione Europea nell'attuale periodo di programmazione e che il prossimo quadro finanziario pluriannale dovrebbe affrontare la sfida della capacità amministrativa in maniera più efficace. Ora sappiamo che nel periodo di programmazione in corso nell'ambito dei fondi strutturali abbiamo un obiettivo tematico dedicato, che è l'obiettivo tematico 11, che supporta le riforme strutturali e rimane attualmente l'unico strumento di cui le autorità locali e regionali sono dirette beneficiarie. Tuttavia nel prossimo periodo di programmazione, secondo gli studi del Comitato delle Regioni, con l'abolizione dell'obiettivo tematico 11, regioni e città non avranno più accesso diretto a questi fondi. Tuttavia altri fonti di finanziamento saranno accessibili. Penso ad esempio al programma di riforma strutturale, che ad oggi fornisce assistenza tecnica per oltre 222 milioni di euro, oppure a programmi di accesso diretto come Connected Europe Facility, Horizon 2020, il piano Invest Away, l'ABEI ed altri. È urgente riuscire a facilitare l'accesso diretto delle Regioni e dei Comuni a strumenti e misure di sviluppo della capacità amministrativa, assicurando la loro partecipazione già nel processo di programmazione e chiaramente nel rispetto della governance multilivello. Inoltre, sempre secondo la definizione dell'Ocse, la capacità amministrativa è l'abilità di eseguire determinate funzioni, risolvere i problemi, fissare e raggiungere gli obiettivi e quindi dobbiamo considerarla sostanzialmente proprio come un approccio sistemico, un approccio che è importante adottare, anche perché nel prossimo periodo di programmazione in seguito alle negoziazioni in corso sarà sempre più necessario un uso trasversale dei fondi che verranno messi a disposizione. La forte connessione della politica di coesione con il semestre europeo è sottolineata anche attraverso il nuovo Annex D, chiesto dalla Commissione europea per i country reports e in questo contesto le autorità locali e regionali devono poter partecipare direttamente al semestre europeo dal momento che il semestre avrà un forte impatto sulla programmazione di coesione anche a livello nazionale. Ecco, oggi questo progetto di parere sottolinea da un lato i principali problemi incontrati in questo periodo di programmazione e propone però anche alla Commissione europea alcune azioni per il prossimo periodo, sia per l'accesso diretto ai finanziamenti ma anche per una migliore governance multilivello, ma cerca anche appunto di migliorare il coinvolgimento diretto. Vi ringrazio per i suggerimenti e anche per i pareri a cui in maniera diretta o comunque indiretta altri colleghi hanno lavorato prima di me. Grazie. Grazie 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 Grazie